Ciao ragazzi Grazie di essere qui con me oggi Benvenuti nel video sul video in questo video parlerò anche un pochino giusto per alternarlo e farlo apparire come trigger molto spesso ma non sarà solo tutto non clicking perché per i miei gusti personali non è bello non mi piace non è effettivo invece trovo effettivo pian piano a ciò che si dice al discorso e ai visual trigger alle caretze a raggiungimento dei 20.000 like farò un altro video dedicato 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 al clicking più lungo quindi se lo volete ricordatevi non so se lo sappiate ma il tuo clicking e insieme al brushing è il mio drink che è il mio preferito è il mio preferito quando ho iniziato a vedere i dsmr io quindi ho parecchie anni fa 5 mi sembra il tuo clicking non esisteva la sua storia è stata inventata da un canale chiamato e effimera lip mi sembra che era davvero molto popolare all'epoca e doveva inserita in un roleplay in una serie di roleplay e anche un altro ragazzo lo faceva spesso e poi la mia smr artist preferita stasera che si chiama britly smr brit britly l'americana e lo fa benissimo l'ho scoperto grazie a lei e grazie a quest'altro ragazzo non sapevo neanche che nome cercare non c'era neanche un nome non c'era neanche un nome ma preferisco quello un po' più delicato ma c'è anche gente che lo fa molto duro ma non so ma non è molto forte ma non è molto forte ok ok direi che possiamo cominciare con un bel face brushing intensivo e vado un po' più un po' più un po' più un po' più queste cose come sono? ciò che più amo nei video smr e mi piace vedere infatti il face brushing e il double clicking sono due trigger che trovate nella mia serie del video perfetto insieme, chi se lo ricorda? alle brushing mike che adoro per chi non conoscesse questa mia serie semplicemente sono dei video che ritengo perfetti non perché fatti da me assolutamente ma perché sono i miei video perfetti da spettatrice quindi i miei video più trovo rilassanti in assoluto e ultimamente ho anche inserito il suono del gelatino squishy perché anche questo è diventato veramente uno dei miei trigger preferiti in assoluto avrò 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 voglio fare un countdown già tre 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 a zero contatto do un clic in mezzo cominciamo cominciamo trento ventinove ventotto ventisette ventisei ventici ventici tre ventiquattro ventitra ventitudo venti tu 21 20 19 19 19 19 19 20 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 22 23 24 24 6 5 4 3 2 1 0 ed è giunta l'ora di a passar le lu e augurarvi una buona 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 buonanotte buonanotte sogni duro buonanotte 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 sogni duro buonanotte 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 good night buonanotte pasticcini bacione good night good night good night Grazie a tutti.